Avrà una ricaduta anche in Abruzzo la decisione di Casa Fiat che per bocca del Presidente John Elkan e dell'amministratore delegato Sergio Marchionne ha deciso di restare in Italia ma di congelare gli investimenti fino al 2014. Una decisione questa che preoccupa molto la FIOM CGL Chieti. Marco Di Rocco ne spiega le motivazioni. Sì, siamo molto preoccupati perché in 5 ore e mezzo di colloquio non ha chiarito Marchionne cosa vuole fare dell'Abruzzo e della Sevel. Noi aspettiamo tra qualche mese l'investimento per il nuovo restyling del furgone Ducato e nel 2014 gli investimenti per quanto riguarda il nuovo veicolo. Quindi senza questo restyling sarà difficile costruire un nuovo modello. Oggi non capiamo se questo investimento è confermato o no. A dire di Marchionne sembra che è tutto rinviato e questo non va bene. Assolutamente dobbiamo intervenire. Mercoledì c'è un incontro che la CGL ha chiesto al Governo e quindi passerà e incontrerà i sindacati mercoledì mattina. La domanda sarà il futuro di Sevelle. E poi vi preoccupa anche il futuro se permane l'alleanza italo-francese, se si prevede l'avvio di un nuovo modello. Condizioni necessarie per garantire il futuro a 6.200 lavoratori al territorio del Sangro e all'intero Abruzzo? Sì, è chiaro che gli investimenti si fanno in due. Nel 2005 la Fiat e la PSA investirono mille miliardi di lire su questo stabilimento per il lancio del nuovo modello. E siccome non si capisce che fine ha fatto l'alleanza italo-francese, in Francia ricordiamo che la Fiat è uscita da questa alleanza, da quest'incontro noi volevamo anche questo chiarimento. Esiste ancora un accordo italo-francese oppure no? Esistono gli investimenti. Noi facciamo appello alla politica e alle istituzioni. In queste ore dobbiamo far sentire la voce degli abruzzesi, chiedere alla Fiat e al governo investimenti per l'Abruzzo.